Sia lodato Gesù Cristo, carissimi, volevo fare una riflessione breve riguardo alla passione di Cristo, alla croce. Nelle nostre chiese vediamo sempre la croce, la liturgia, in certo modo ci mette sempre davanti agli occhi la croce. E allora mi sembra importante, anche sulla base di quello che ci insegnano i Santi, mi sembra importante dire qualche cosa, proprio riguardo alla passione di Cristo. Ultimamente sto facendo delle riflessioni quasi praticamente quotidiane sulla liturgia. E vedete quello che sottolineo continuamente, soprattutto negli ultimi tempi, è il fatto che al centro della scrittura, al centro della liturgia, c'è la Santissima Trinità, che è infinitamente su per Dio, infinitamente su per Onnipotente. Allora, vedete, la passione di Cristo, che cosa ci dice? Bene, innanzitutto, vedete, la passione di Cristo, in quanto proprio fissata nella Sagra Scrittura, mette al centro la Santissima Trinità. Abbiamo detto altre volte che al centro della scrittura proprio c'è la Santissima Trinità. L'insegnamento principale della Sagra Scrittura è proprio quello riguardante la Trinità. Tutta la Sagra Scrittura è parola della Trinità e parla, innanzitutto, della Santissima Trinità. Santa al centro, nella parola di Dio, c'è la Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo. La Santissima Trinità ci parla attraverso la scrittura e ci parla, innanzitutto, di se stessa. Quindi, vedete, il mistero della passione ci parla, innanzitutto, della Santissima Trinità. Dobbiamo averlo chiaro, questo, perché noi tante volte ci fermiamo su aspetti secondari. Invece la cosa principale è questa. Il mistero della passione ci parla, innanzitutto, della Trinità, non di Cristo in quanto uomo. Ci può sembrare strano questo, ma la realtà è proprio questa. Dio parla, innanzitutto, di se stesso. Dio parla, innanzitutto, di se stesso. La realtà più reale è Dio. Chi è che dà la vita anche a coloro che hanno perseguitato e perseguitano Cristo. Chi ha dato tutto, ogni perfezione a Cristo, in quanto uomo. La Santissima Trinità. Quindi, vedete, al centro di tutto c'è sempre la Trinità. Al centro del mistero della croce c'è il mistero della Trinità. Il mistero della Trinità, vedete, la Trinità, attraverso la croce, ci dice innanzitutto che cosa? Ci dice che Dio esiste. Attraverso il mistero della croce ci parla la Trinità. Ci dice innanzitutto che cosa? Che Dio esiste. Dio esiste. La Trinità esiste. Quindi dobbiamo avere fede, perché non lo vediamo. Quindi la parola di Dio ci dice che noi siamo ciechi. Quindi non vediamo Dio, dobbiamo credere nella Trinità. Non vediamo. La Trinità dobbiamo credere. Credere. La fede. La fede. Fede nella Trinità. Più reale di tutto. Più reale di tutto nel mistero della passione è la Trinità. Chi ha dato la vita, chi ha dato il corpo a Cristo, chi ha dato la vita a quelli che gli stavano intorno, chi ha creato tutto. La Trinità. La realtà più reale che emerge dal mistero della croce è la Santissima Trinità. La mistero della Santissima Trinità. E appunto la Trinità infinitamente, ecco la Trinità supera infinitamente, è quello che noi possiamo dire della Trinità stessa. La Trinità è infinitamente super realtà, infinitamente super esiste, in certo modo possiamo dire. Cioè infinitamente super è. Se noi siamo è perché la Trinità è. Attenzione. Se Cristo in quanto uomo è, è perché la Trinità è. Se i suoi persecutori sono in quanto persone esistono, cioè perché la Trinità è. Quindi al centro di questo mistero è la Trinità, che ripeto, infinitamente super esiste. Quindi, Signore aumenta la nostra fede nella Trinità. Questo deve essere la nostra prima preghiera, guardando il mistero della passione. Signore aumenta la nostra fede nella Trinità. Adesso sarebbe bello fare una bella professione di fede. Facciamo quella breve. Il credo degli apostoli. Credo in Dio Padre Onipotente, Creatore del cielo e della terra, in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patito Ottoponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi il terzo giorno risuscito da morte. Salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onipotente, ed in là verrà a giudicare i vivi e morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei Santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna. Amen. In questa linea, vedete, la passione di Cristo ci dice alcune cose molto importanti. Qui abbiamo detto che ci parla innanzitutto della Trinità. E, vedete, ci dice che la Trinità non soffre. Attenzione. La Trinità non soffre, la Trinità non muore, perché Dio è immortale, Dio è impassibile. Partiamo da questo dato, perché questo è il dato da cui dobbiamo partire. La Trinità impassibile, la Trinità onipotente, la Trinità immortale. La Trinità immortale. Questo è quello che ci dice principalmente il mistero della passione di Cristo. E, cari fratelli, è questo Dio, ecco, immortale, impassibile, è, scusate, infinitamente super immortale, infinitamente super impassibile, è infinitamente super Dio, infinitamente super deificante, infinitamente super santo, infinitamente super santificante, e quindi ci dona la santità per camminare nel mistero della croce, per giungere alla gloria con Cristo. Vedete, la Trinità ci vuole far partecipare alla sua vita, alla sua vita di, appunto, impassibilità, ci vuole far partecipare alla sua vita di santità, alla sua vita di immortalità, alla sua vita di contemplazione e beatitudine. Dio è beato e vuole beatificare, vuole renderci beati, vuole beatificarci. Eh, che cosa bella questa, cari fratelli, eh. Quindi la Trinità infinitamente super onipotente ci dona, ecco, che cosa? Ci dona di seguire Cristo sulla via della croce. La Trinità infinitamente super onipotente ha mandato a noi Cristo. In Cristo c'era la pienezza della vita trinitaria, Cristo ha percorso la via della croce, noi dobbiamo percorrere con la forza di Dio, in Cristo, con la forza della Trinità, la via della croce. E questo, lo voglio dire, sto facendo questa meditazione, perché, come ci insegnano i santi, la meditazione e la passione è importantissima nella vita spirituale. Perché, come ci insegnano i santi, se vogliamo veramente essere santi, dobbiamo meditare a fondo la passione. Ecco, allora questo che vi sto dicendo vi deve, e ci deve aiutare tutti a meditare a fondo la passione. La passione, appunto, ci dice quello che vi ho detto, Dio è infinitamente super onipotente, Dio è infinitamente super reale, ma ci dice anche che Dio è infinitamente super amore, infinitamente super amore onipotente. Guardare la passione ci deve elevare alla contemplazione di Dio. Attraverso la passione Dio ci vuole elevare alla contemplazione di Dio stesso. Che cosa, beh, Dio che, ripeto, è impassibile, è immortale, impassibile, e ci chiama alla beatitudine, non alla sofferenza eterna, ma alla beatitudine eterna. Però il passaggio è quello della croce, quello della, in certo modo, kenosi con Cristo, no? Bene, ringraziamo il Signore, appunto, che ci vuole far passare per la via della croce, che è una via, ovviamente, impegnativa, ma è una via che conduce al paradiso, che conduce alla piena deificazione. Anzi, Dio, appunto, facendosi uomo, in Cristo, ha voluto proprio, rimanendo Dio, ha voluto proprio prendere la via della croce. Quindi la via della croce è la via, ecco, la via di Dio, la via che Dio ci invita a seguire per essere conformati pienamente con Dio, conformati con Lui nella santità. Però, ripeto, Dio, in quanto Dio è impassibile, è immortale, impassibile e immortale. Bene, glorie al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.